Ciao siamo Dariada da Ugaria siamo felici di suonare a Fostfest in Italia si 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 ha tantissimo vino rosso e pasta italiana e che cosa? perfetto si da Ungheria siamo felici di suonare a Postfest in Italia si 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 ha tantissimo vino rosso e anche pasta si vi dice che portare tantissima birra si si in cambio ricevete un grandioso concerto di folk metallo Forza Azzurri grazie ciao